Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 12 dicembre, vi ricordo come sempre che questa sera dalle 19 alle 20 ci sarà 105 Matrix sul Radio 105 e come sempre dovete condividere se potete questa zuppa affinché abbia sempre più diffusione sulla rete. Oggi la notizia sono varie, diverse, perché la notizia dell'attacco a New York la rubricherei per quello che è un pazzo dell'Isis, perché c'è sempre l'Isis in mezzo, che oggi dai giornali occidentali viene dipinto qualche volta come un vendicatore, cioè che in realtà arriva dopo che Trump fa una dichiarazione di riconoscimento di Gerusalemme, quindi utilizzano questo attentato dell'Isis contro Trump ed è piuttosto divertente questo ribaltamento della realtà. Ma su questo io vorrei parlare perché di fatto quella che poteva essere una strage si è risolta in ulta, la vorrei semplicemente ribaltare su una piccola questione semantica, per tutti i giornali, tranne che per la Repubblica, l'ordigno era artigianale, Repubblica dice che era un ordigno rudimentale, tant'è che lui non è scoppiato, si è solo dato fuoco, fosse morto sarebbe andata meglio, lo dico con scarsa pietà nei confronti di questo ragazzo del Bangladesh, ma comunque uno che vuole uccidere altre persone io non ho nessuna pietà nei suoi confronti. Detto questo, ritorniamo sulla questione semantica, una cosa artigianale è ben fatta, almeno nella nostra cultura italiana, lasciamola dire a qualcun altro che una bomba inesplosa è artigianale, una bomba inesplosa non è artigianale, è rudimentale, fai da te è una schifezza, le cose artigianali sono ben fatte, come un abito, una camicia, insomma è una banalità, se voi credete che è un po' superficiale questo commento, io però vi ricordo una cosa, che sarà superficiale il mio commento, ma non è superficiale quell'idea di fondo per cui gli artigiani, le botteghe, i piccoli imprenditori italiani sono robe che non funzionano e si associano dunque a cose che non funzionano, esattamente il contrario, le cose piccole e ben fatte del fai da te italiano sono le cose che non solo a parole, ma anche nel nostro idem sentire, dovrebbero essere considerate straordinarie. Nel frattempo a Chicago quotano i futures, cioè sostanzialmente le scommesse sui bitcoin, quindi si può anche vendere un bitcoin allo scoperto, si possono anche vendere, se voi non credete ai bitcoin, potete vendere, i bitcoin sono una valuta che non ha una banca centrale che la controlla, ma che è controllata da una rete democratica, così si potrebbe definire, che è considerata la blockchain, è come dire una catena appunto fatta da tanti anelli, ogni anello però non può controllare l'altro e quindi la catena funziona se tutti gli anelli sono in piedi, in questa maniera si crea il bitcoin, oggi sui giornali c'è tutto sui bitcoin perché si quota, a Chicago il future, cioè la scommessa sul bitcoin, sull'andamento del bitcoin e va a prezzi elevatissimi. Troverete molto sui giornali, sul sole 24 ore il lato dei banchieri e di Masciandaro che lo criticano, ma è ovvio che criticano il bitcoin perché il bitcoin uccide il sistema tradizionale delle banche, cancella completamente il sistema tradizionale che esiste da centinaia di anni, da 150 anni della banca centrale che emette moneta. In più, molto interessante invece quello che dice Lottieri sul giornale in cui dice potrà saltare il bitcoin, io direi potrebbe saltare anche tiscali come è saltata nel 2000, 80.com, ma rimane la rivoluzione della blockchain di questa catena di computer decentralizzati. C'è interessante anche su Repubblica il pezzo dei ventenni che ci credettero 15 anni fa e che oggi sono diventati milionari, ventenni italiani, non soltanto i ventenni che finanziarono Zuckerberg all'inizio ad Harvard, ma anche italiani che ci credettero, quindi secondo me Pier Giorgio non è una catena di Sant'Antonio, come tutte le speculazioni e come tutte le innovazioni rischia di crollare, io non investirei un euro per quanto mi riguarda nei bitcoin, ma da questo dire che non ci sia nulla dietro, cioè che questo sistema sia fuffa, è come dire che fuffa internet perché saltò tiscali che capitalizzava contro la fiat, più della fiat, le due cose vanno insieme. In questo mondo globalizzato di bitcoin, di innovazioni, di acquisti fatti online, Di Maio, il candidato premier del Movimento 5 Stelle, pensa bene di strizzare un po' l'occhio alla parte conservatrice della società italiana, cioè alcuni commercianti non tutti, alcuna parte della chiesa non tutta, per dire che durante le festività non bisogna aprire i negozi. ovviamente questo è un tema dibattutissimo, i commercianti alcuni sono favorevoli, altri sono contrari, l'idea è che non siano aperte le grandi catene perché loro se lo possono permettere mentre i piccoli commercianti non se lo possono, ma allora a questo punto chiudiamole proprio le grandi catene, ma il punto è che indipendentemente da come la pensano i piccoli commercianti, la chiesa, Di Maio, quelli che si oppongono o no, il punto sostanziale è che siamo arrivati in un mondo per cui la gente alle 11 di sera, il 24 dicembre ordina, o alle 5 di mattina, ordina pizza, playstation, arbre magique, oggetti per il desiderio sessuale, tutto via internet, quindi non c'è chiusura che tenga, il punto fondamentale potete anche chiudere i negozi, bisogna semplicemente rispettare il volere dei consumatori e se i consumatori purtroppo per chi aveva un'idea tradizionale vogliono comprare sempre a qualsiasi ora del giorno e senza festività, purtroppo la chiusura dei negozi oggi non serve a limitare le vendite, serve purtroppo a uccidere esercizi commerciali che già verranno uccise dalla grande distribuzione e dalle reti internet che già stanno facendo carne da porco riguardo ai negozi di prossimità che rappresentano una delle grandi forze anche della sicurezza italiana, purtroppo il mondo va avanti come dice François, far finta che lo possiamo chiudere come pensa Di Maio mi stupisce. Di Di Maio ho parlato, dell'attentato, ho parlato, fantastica poi la questione, lo sapete che ne ho parlato anche ieri in radio, sui fascismi e sul rischio del fascismo, ieri ve ne avevo parlato di Guido Craitz che aveva fatto un pezzo ridicolo su Repubblica dicendo che quella era la più bella gioventù, quella di Como che stava manifestando contro il fascismo di poi cinque ragazzotti balordi che vanno a interrompere una manifestazione di persone che sono a favore dell'accoglienza in una casa privata e dico che è ridicola perché è ridicola come la pone citando Carlo Levi, citando le vecchie manifestazioni del 60 di Genova contro il movimento Miss che non era una manifestazione pacifica quella che fu fatta contro il Miss perché furono feriti e danneggiati i luoghi pubblici, lo stesso Montanelli ne parlò come di atti di violenza nei confronti della città di Genova. Il punto fondamentale che oggi ricorda Facci sul Libero, grandissimo Facci e che io non sapevo è che sul giornale di Mario Calabresi, figlio appunto di Luigi Calabresi, ucciso da lotta continua, scrive Guido Craitz dicendo arriva al fascismo il quale Guido Craitz o come diavolo si chiama storico, storico e un ex militante di lotta continua, di lotta continua. Cioè io sarò un appunto in questo forse un po' rigido, non sopporto la Marcegaglia, non sopporto tutti quelli che hanno cercato di farmi andare in carcere con motivi risibili, ma da questo a se a me mi avessero ucciso il padre un'organizzazione che si chiama lotta continua, beh io non dico che avrei fatto giustizia da solo perché penso che ci siano i magistrati e i poliziotti che l'avrebbero fatto per me, in quel caso l'hanno fatto condannando Adriano Sofri, ma certo se divento direttore del giornale non faccio scrivere uno di lotta continua, per di più che mi parla di fascismo e di rischio di fascismo, proprio quello che uccise e contribuì a uccidere mio padre con quel giornale fascista, non fascista, comunista, lotta continua, era un giornale comunista sovietico che direttamente discendeva dalla violenza sovietica. Io la trovo una cosa incredibile, contento lui, contento i lettori di Repubblica, guardate io sono affari loro, così come è molto divertente la storia che è trovata fuori mi sembra il giornale oggi, cioè che il manifesto di lotta continua è stato ritrovato nella questura di Pisa e il commissario, il sottocommissario che ce l'aveva dietro a Soschivani ha farfugliato, dice il giornalista, che si trattava di un trofeo di guerra, insomma il trofeo di guerra o no abbiamo fatto un gran casino per una bandiera del secondo Reich, non del terzo Reich, invece se abbiamo un manifesto di lotta continua in un commissariato, che è un lotta continua che ha ammazzato, vi ricordo sempre, un commissario di polizia, Luigi Calabresi, va bene, in quegli anni di merda di Milano, beh noi possiamo accettare invece che ci sia un manifesto di lotta continua nel nostro commissariato, trofeo di guerra o non trofeo di guerra, è molto ma molto ma molto ma molto peggio di una bandiera del secondo Reich nella mia testa, invece no, abbiamo il problema del fascismo, non dei reduci di lotta continua che hanno ancora atteggiamenti straordinariamente oltransisti, fantastica oggi il pezzo sul, vedrete che ne parleremo nei prossimi giorni, sul gelicidio, perché si dirà che anche questa è figlia dei cambiamenti climatici, oggi un meteorologo sulla stampa, molto bella la sua intervista, ci spiega perché dal 300, dal 14esimo secolo che si parla di gelicidio. Insomma, il taglio dei vitalizi, la famosa legge Ricchetti che doveva togliere o tagliare un pochino i vitalizi a 2600 ex parlamentari e soprattutto che secondo me è un fatto di giustizia, questo senza dubbio, portarla da 60 a 65 anni in età pensionabile per i parlamentari, così come lo è per tutti i Cristi, non capisco perché i parlamentari devono andare in pensione precedentemente e godere la loro pensione precedentemente rispetto agli altri lavoratori, proprio quando gli altri lavoratori gli stanno aumentando l'età pensionabile. Questa farsa all'interno del PD tra Ricchetti, il suo membro della commissione, insomma non farserà nulla sui vitalizi. Allora io dico, con i vitalizi non si risolve ovviamente il sistema pensionistico italiano, si dà un messaggio di sobrietà quando si chiede ai cittadini grandi sacrifici, non ne faccio una grande battaglia, anzi trovo che sia un po' ridicolo fare una grande battaglia, però trovo anche, forse ancora più ridicolo, i parlamentari del PD che prendono per i fondelli gli italiani facendo finta di rincorrere le tesi di Grillo, no i vitalizi, tagliamo i vitalizi eccetera e poi dopo ovviamente quando si arriva a fine legislatura quella roba lì non si fa e i vitalizi rimangono esattamente uguali come a prima. Che volevo dire? Fantastico, Shazam verrà comprato da Apple nel mondo in cui vogliamo chiudere i negozi a 400 milioni di euro, sapete quanto fattura Shazam? 50 milioni di euro, cioè Apple compra Shazam a 400 milioni, fattura 50 milioni e perde un botto di soldi e noi stiamo qui ancora con i bitcoin che vengono quotati a 18 mila euro a pensare di chiudere la domenica i negozi, i negozi di dischi vorrei segnalare a Di Maio sono stati chiusi, non ci sono praticamente più se non per esperti, quindi sì possono essere aperti 4-5 giorni alla settimana, ma i negozi di dischi non ci sono più perché c'è Shazam, perché c'è Apple, perché ci sono Spotify, svedese e non americana, ecco forse invece di pensare alle feste e natalizie pensiamo a un modello di sviluppo per cui qualche cosa di queste cose tecnologiche vengano fatte anche in Italia, invece siamo qua a pensare all'indennità di disoccupazione che passa da 4-8 mesi, solo mi sembra Repubblica si accorge di quest'ultima norma messa nella nostra finanziaria che renderà ancora più precario il lavoro, perché se rendiamo sempre più rigido l'assunzione a tempo indeterminato, il side effect, l'effetto collaterale, ma è sempre difficile da spiegare a chi è ideologico, sarà quello che la gente non vorrà assumere. Condividete questa zuppa, questa sera ai 19 parleremo su 105 Matrix e ovviamente come sempre sito nicolaporro.it per tutte le notizie di giornata. Ciao!